Grazie a tutti Ecco ieri un esempio appunto si è parlato di ottimismo del PD si è parlato di buone notizie che sono state nella legge di stabilità passata alla Camera che vengono confutate e oggi ecco appunto viene fuori un quadro a meno per quanto riguarda la ricostruzione ma non solo per quanto riguarda il funzionamento del Comune dell'Aquila che non è così rosio ecco quindi questo ottimismo è ingiustificato Beh noi di Sinistra Ecologia e Libertà vorremmo sbagliarci sull'analisi che facciamo per quanto riguarda la legge di stabilità 2015 ma purtroppo non è così la legge che è passata alla Camera non prevede alcuni punti necessari come la proroga delle assunzioni del personale anche a tempo determinato che ci permetterebbero di continuare a fronteggiare l'emergenza per quanto riguarda gli uffici, le ufficie entrate Sono tutti amministrative i ragazzi, 35 ragazzi per quanto riguarda l'amministrazione comunale in più ci sono le addette all'iasilinido che anche in questo caso dovremmo chiuderne uno dei due per poterlo poi dare in gestione quindi io sinceramente tutto questo ottimismo non lo vedo quindi mi sono permesso di segnalare questa mia preoccupazione augurandomi di sbagliare ma purtroppo non è così Per quanto riguarda la legge di stabilità 2015 che è passata alla Camera noi ci siamo attivati presso il capogruppo del gruppo misto Loredana De Petris che è di SEL per poter ripresentare tutti gli emendamenti che sono stati esclusi, eliminati, bocciati alla Camera dei Deputati Ci auguriamo che presentando gli emendamenti dalle opposizioni sposandosi con la volontà della senatrice Pezzopane e del Partito Democratico questi emendamenti possano essere accettati perché faccio presente che ancora non abbiamo nemmeno la comunicazione dello stanziamento extra che viene fatto ogni anno per il Comune dell'Aquila per poter fronteggiare le minore entrate o le maggiori uscite derivanti dal terremoto Ecco, tra le contestazioni che ci sono state ieri, numerose appunto note in polemia con il partito più grande del centro-sinistra anche quella dell'assessore al bilancio Laleo De Santis che ha parlato di rischio di pagamento tasi sulle case inagibili sulle quali appunto però si sta ancora valutando la notizia che questo rischio potrebbe essere superato da una nuova scansione della tassazione Beh, da quello che si capisce nella legge di stabilità passata alla Camera, poi non sappiamo se il Senato la modifica o meno è prevista una nuova tassi, la tassi viene eliminata, verrà inserita una tassa unica sulla casa resta attualmente la Tari, la cosiddetta la tassa sui rifiuti quindi bisognerà vedere come si articola e quali saranno le prerogative, cioè le aliquote da applicare per la tassa sulla casa principalmente il problema delle case inagibili nasce da una cattiva interpretazione della norma l'inagibilità delle case all'Aquila non deriva dalla volontà del proprietario di non rendere agibili quindi di staccare le utenze, l'inagibilità deriva dal terremoto quindi va oltre la volontà del cittadino e del proprietario a mantenerla quindi io penso che in nessun caso si possa e si debba rischiare di poter applicare qualsiasi tassa a un edificio inagibile Pochi giorni fa il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e con lui il Consiglio Comunale dove figura anche lei ha passato il guado del metà mandato, quindi due anni e sei mesi di amministrazione secondo mandato per questa maggioranza di centro-sinistra dovendo fare un bilancio, qual è il voto per il sindaco e per la sua maggioranza? Ma più che voto potremmo dire che l'impegno in questi due anni e mezzo è stato sempre forte, sempre presente sempre con l'attenzione anche come dicevamo a prendere i finanziamenti per la ricostruzione poi gli errori ce ne sono stati, gli errori sono quelli di una programmazione non proprio puntuale e non sempre chiara ecco questo è vero, ci stiamo battendo in Consiglio Comunale, la volontà è anche del sindaco di essere più trasparenti nella rendicontazione delle spese noi pensiamo che più i cittadini conoscono e sanno come vengono spesi i propri soldi più sono in grado di giudicare l'attività e l'operato dell'amministrazione per sentito dire, per le voci che si vengono messe in giro è sempre delicato ci sta sempre una disinformazione guidata per cercare di convincere i cittadini a posizioni diverse ecco penso che più che trasparenza, cioè portare a conoscenza delle spese dell'amministrazione comunale in maniera puntuale pubblicando anche dei sunti all'interno del sito internet penso che si possa fare, poi non so se altri avrebbero potuto fare di più io penso che l'impegno che ci sta mettendo il sindaco, l'impegno che ci sta mettendo questa maggioranza è il massimo, certo fra due anni e mezzo renderemo conto ai cittadini i cittadini potranno scegliere e potranno giudicare loro perché poi quello è il giudizio più importante con l'esercizio del voto se questa amministrazione si è impegnata o non si è impegnata certo i risultati non dipendono solo dal comune come vediamo anche la regione Abruzzo che non più tardi di sei mesi fa è cambiato il presidente, quindi oggi c'è un presidente di centro-sinistra D'Alfonso aveva promesso che si facevano la legge per l'Aquila Capoluogo ecco noi anche questo aspettiamo che venga fatto quindi la nostra città non basta che gli amministratori comunali o il sindaco siano bravi ed efficienti è necessario anche che la regione Abruzzo e che lo Stato italiano ci dia una mano per poterlo fare poi noi ci mettiamo di noi e noi pensiamo che stiamo operando sotto il giusto punto di vista certo se riuscissimo a produrre anche un nuovo piano regolatore dopo aver normato le aree bianche penso che potrebbe Cialente con il secondo mandato firmare anche una rinascita urbanistica della nostra città cosa che con il piano di ricostruzione non sempre è avvenuto Grazie Justino Masciocco Grazie a voi